ciao a tutti benvenuti in questo nuovissimo video questo è il canale cuccioli e co e oggi siamo ritornati con nintendogs bassotti amici allora i cani stanno dormendo come potete vedere perché li ho fatti addormentare con la musica questa qua riposino ieri però che ci ho giocato un po ieri e niente adesso vediamo la loro salute allora a cico a tanta fame tanta sete pelo corto normale l'ultima cosa che ha mangiato le crocchette anche charlie e laki me li do le crocchette di nuovo poi vedo se comprare altro cibo ok allora l'acqua allora facciamo la passeggiata vediamo con l'acchi scusate allora vediamo se andare nel parco però questo qua non quello dove stanno i cuccioli la non mi ricordo come sta messo con gli allenamenti di di agility aspettate un attimo volevo andare anche discount non mi ricordo è sto usando un po' la mano destra vediamo se si vedono di meno le dita no meglio la sinistra allora vediamo alleniamolo un po' con il disco il corgi mi sa che è uno dei cani più veloci se lo addestrate bene con il disco anche con l'agility apprende subito secondo me è uno dei cani che apprende più di tutti gli altri infatti credo che sia l'unico cane che preferisco di più ho sbagliato l'acchi 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 ogni tanto non sentono l'acchi l'acchi annaggia certe volte mi sfugge proprio di mano vediamo i giochi l'acchi ciao l'acchi è un po' fastidioso come l'acchi ha paura giochi allora vediamo qua il kart di mario quasi usano i tasti dov'è ecco mamma scusa non volevo fargli male se riesco a farlo venire qua vabbè vabbè nintendo non lo so però in questi giorni sto rigiocando di nuovo no lui si deve ancora addestrare bene alla giri poi non so se farlo partecipare a qualche gara non lo so sinceramente non ho voglia di di fargli partecipare alle gare cioè non voglio neanche più addestrarli perché non lo so mi annoia poi è anche un po' stancante soprattutto con con alcuni cani che i comandi devi ripeterli tante volte vabbè vabbè io comunque mando avanti sennò rimaniamo sempre qui ho trovato il regalo magari mi davano il dalmata no chissà quando lo sbloccherò quel cane è l'ultimo cane che mi è rimasto il dalmata allora l'acqua era bello se potevano mettere altri cibi sono sempre gli stessi vabbè e mimma che sta facendo una passeggiata se ti prendi cura del tuo cane e gli dedichi molte attenzioni ti ripagherà facendoti dei regali vabbè vediamo se fanno amicizia no aspetta no sono agitati poi quando semmai magari sbloccherò il dalmata poi vi registrerò registrerò il video allora gira 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 boh no no ecco se vabbè ma lasciatelo in pace no si devono sempre buttare gira no perché ha fatto terra comandi su aspetta cos'era su non mi ricordo no un attimo ah questo su cioè invece di insegnarli pancia cioè dire pancia eh su su vabbè quello è comunque il comando allora invece a charlie abbaglia due zampe abbaglia comunque ho sbagliato doveva essere ulula non abbaglia perché quello è l'ulato ululato scusatemi che fanno quando passano passa l'ambulanza la sirena dei pompieri ulula nese vabbè abbaglia abbaglia ciao charlie sono seduto scodin sola zampetta canguro aspettate un attimo verticale anche in questo ho sbagliato non dovevo dire verticale dovevo dire capriola vabbè comunque doveva essere capriola ma non fa niente poi non so se cambiarlo sempre se riesce a farlo di nuovo orecchie orecchie che carino canguro 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 anche io sono riuscito a insegnargli questo comando poi l'altro qual'era non mi ricordo ogni volta devo andare a vedere zampetta zampetta vabbè ok il video termina qui spero che vi sia piaciuto se volete iscrivetevi al canale e anche al secondo che ho Ilaria e Cuccioli se volete commentate poi non so che video farò alla prossima